Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video, nuova settimana lunedì e si comincia già subito con le polemiche perché nella partita di ieri, ma non solo nel derby d'Italia, così come lo hanno etichettato i nostri nemici merdazzurri è successo un po' di tutto, anche in altri campi, ma ieri soprattutto, anche perché questo episodio è sfuggito a quasi tutti, quasi tutti, perché tanti di voi se ne sono accorti e se ne è accorto soprattutto se ne è accorto soprattutto Tutto Sport che ne fa un articolo molto molto approfondito sull'episodio di ieri arbitro guida e VAR irrati, io ve lo dissi ragazzi, ho gli incubi ed effettivamente agli occhi dei più attenti è successa una cosa che doveva essere esaminata da parte del VAR, ma al VAR molto probabilmente in quel momento stavano esultando per il bel gol di Lautaro e non si sono accorti di quello che è successo prima di andare a leggere le parole di Tutto Sport vi faccio vedere proprio le immagini del contatto dell'episodio da Moviola, gentilmente offerte da un nuovo sostenitore del canale che è Papingura un nuovo ragazzo che mi ha mandato queste immagini e mi ha detto Peter guarda che è successo questo, non so se te ne sei accorto, ma il gol dell'Inter potrebbe essere da annullare anzi molto probabilmente doveva essere annullato prima di partire con le immagini, prima di partire con la lettura del Tutto Sport che è l'unico che comunque cerca di difendere un pochettino la verità e tirare fuori tutte le porcate che vengono fatte sia in un lato che nell'altro, come sempre io vi invito a mettere un bel like perché è totalmente gratuito e aiuta non poco il video a fare il giro nel web per aiutare ancora di più potete condividere, questo è molto importante, anche perché se questa occasione fosse successa a favore della Juventus state tranquille che i tifosi dell'Inter lo avrebbero condiviso in tutti i loro social, quindi voi non siate da meno, difendiamo la Juventus, difendiamo la realtà, facciamo vedere e poi la gente può commentare con il suo pensiero, quindi condividete in massa e a proposito di commento, guardate il video fino alla fine, ma non dimenticatevi di commentare perché è molto importante lasciare il nostro pensiero, come dico sempre, basta ascoltare il pensiero degli altri cominciamo a far sentire il nostro, un ringraziamento particolare a tutti gli abbonati che mi sostengono e a tutti voi che continuamente condividete i miei video via, partiamo con le immagini perché hanno dell'incredibile le abbiamo qua, allarghiamo un pochettino e ve le faccio vedere qui chiesa prende palla, si sposta e viene abbattuto rivediamolo, lo guardiamo un paio di volte perché dura poco Darmian mostra che il pallone non gli interessa va direttamente sull'uomo e sembrerebbe fallo da questa azione riparte l'Inter con quattro passaggi riesce ad arrivare davanti a Scesni e abbatterlo con Lautaro su assist di Turam una partita tutto sommato tra due squadre che non volevano farsi troppo del male due squadre che hanno capito immediatamente che tutte e due potevano vincerla ma che tutte e due potevano mostrare il fianco debole e perdere la partita infatti nel secondo tempo non si è più giocato a calcio ma di questo episodio di cui pochissimi replay anzi nessun replay si è visto ne ha parlato molto molto bene Tutto Sport e quindi andiamo a leggere le parole di Tutto Sport anche perché ci è venuto in mente un gol annullato alla Juventus proprio pochi giorni fa a Ken c'è una piccola differenza che uno la mano aveva messa sul volto più o meno e l'altro invece no ma andiamo a leggere che cosa dice il Tutto Sport perché tira fuori un marcio un qualcosa che noi ci aspettavamo perché dall'arbitro guida ci aspettavamo di tutto infatti il modus operandi di ieri è stato non fischio quasi nulla almeno che non sia eclatante infatti su Chiesa anche un fallo su Turam ma su Vlaovice lanciato verso l'area di rigore non fischia nulla addirittura anche i telecronisti hanno detto che in quel caso il fallo c'era ma il metro di giudizio è quello e quindi giustifica anche teoricamente il fallo non fischiato a Chiesa su cui poi il contropiede dell'Inter è micidiale e vanno sull'1-1 ma andiamo a leggere perché anche qui c'è del bello attenzione perché guida ed almeno su Chiesa in Juve-Inter non è in faccia ma i dubbi restano il Nelazzurro colpisce con una sbracciata lo Juventino sugli sviluppi dell'azione del pareggio di Lautaro l'arbitro è tutto ok qua ci sono anche delle immagini viste da dietro io queste sono foto vi ho portato le immagini ma sul primo tempo del big match ci dicono del campionato tra Juventus e Inter finito sul risultato di 1-1 gol di Vlaovic che ha sbloccato la partita i Nelazzurri hanno trovato il pareggio grazie alla rete di Lautaro Martinez su assist come vi disse prima di Turan l'azione però è viziata da un intervento di Darmian su Chiesa che lascia molti dubbi l'esterno dell'Inter abbatte il giocatore bianconero come vi feci vedere dalle immagini dopo essere stato saltato di netto con una sbracciata evidente attenzione sotto gli occhi di guida che non segnala il fallo attenzione perché come noi sappiamo la Juventus è lo stadio con più telecamere ma giustamente non vengono esaminate perché le telecamere poi mostreranno che c'è il colpo in faccia non c'è il colpo in faccia ma l'azione fallosa resta perché non è che deve essere per forza un colpo in faccia per essere un fallo attenzione il giocatore il gioco prosegue e l'Inter con la Juventus sbilanciata trova il gol del pari attenzione l'intervento al di là della faccia che ricordate Ken Faraone è considerata sacra stando a quanto ribadito anche da Rocchi ricordiamolo il disegnatore degli arbitri e della UEFA avrebbe dovuto far scattare il VAR irrati attenzione che avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara per il chiaro ed evidente errore attenzione qualora errore come errore si fosse considerato ma sappiamo che al VAR erano vestiti di merdazzurri nell'errore nel non fischiare il fallo giustamente la sbracciata di Darmian non è in faccia a Chiesa sarebbe stato clamoroso altrimenti ma è proprio l'intervento del giocatore dell'Inter a sembrare chiaramente irregolare al di là della faccia o meno scrivono qua Chiesa lo salta di netto il neroazzurro disinteressandosi del pallone ormai lontano va diretto sull'avversario per fermarlo non certo un body check come lo chiamano adesso ma comunque sempre sempre un fallo attenzione perché prosegue il tutto sport e noi leggiamo perché a Juventus Inter gli audio sulla goal di Lautaro e quello sarebbe bello sentirli ma dovremmo aspettare la prossima settimana perché saranno chiarificatori gli audio degli arbitri che verranno poi rilasciati nei prossimi giorni nei quali si sentirà cosa guida ha detto Alvar aver visto chiaramente il contatto decidendo di far proseguire il gioco sarebbe poco in linea col metro di giudizio utilizzato fino a quel momento pochi minuti prima decisamente fiscale con un cartellino giallo rivolto a cambiasso è più tenero invece con Mkhitaryan dopo una palese trattenuta su McKennie quindi anche lì il protocollo il regolamento viene utilizzato ad cazzum ma attenzione perché poi qui Gazzetta dello Sport toglie tutti anzi tutto sport perché Gazzetta dello Sport mette dubbi ma tutto sport in questo caso li toglie Ken Faraone e Concord il ricordo è vivo attenzione il ricordo è vivo in tutti noi è scattato subito fuori quel pensiero ma se allora il guardalino a un metro vede mi riferisco a Ken e non segnala il fallo l'arbitro a dieci metri vede e non segnala il fallo perché è intervenuto il VAR l'intervento di Darmian prima delle telecamere rivelatrice nel dopo partita ha fatto venire in mente un episodio da Moviola in Juventus Verona quando a Ken è stato annullato un gol per una manata a Faraoni quindi vedete che va in base all'uomo si c'è come vi disse io lo strumento è molto utile ma alla fine lo strumento è utilizzato sempre dall'uomo l'errore l'uomo lo fa o perché lo vuole fare o perché si sbaglia ma in questo caso lo strumento che dovrebbe portare la regolarità nel campionato non riesce a farlo perché a decidere è sempre l'uomo decide quale fotogramma decide quando intervenire decide quando andare a controllare il fuorigioco decide tutto quindi non è lo strumento ma è l'uomo lo strumento è una cosa eccezionale dato in mano all'uomo utilizzandolo in questa maniera qua uccide il calcio e questa è una denuncia che deve partire e deve girare perché è incredibile è incredibile che solo tutto sport ne parli perché se questo episodio fosse stato a parte invertite la Juventus si fosse portata sull'1-1 con un gol con un gol partito da un'azione irregolare come questa io penso che avrebbe superato anche l'audience del fu rigore di Ronaldo Giuliano detto questo se siete arrivati fino a qua siete dei supereroi non vi rimane che mettere un bel like e ora si commentare con il vostro pensiero mi raccomando non dimenticate di farlo condividete questo video e iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta uscirà un nuovo contenuto su Instagram come vi dico sempre potete contattarmi in privato peter underscore pana underscore bianconero in descrizione trovate il link ci cliccate vi porta direttamente nella mia pagina il video finisce qui io vi saluto fino alla fine forza Juve ciao a io